Credo in un Deo Siamo nell'anno della fede Papa Benedetto ci invitava a considerare i 50 anni del Concilio e i venti del Catechismo Allora ascoltiamo il testo del Catechismo degli adulti che a sua volta cita il Concilio e poi ci muoviamo perché questo ci dà un po' i punti di riferimento Dice il numero 748 del Catechismo degli adulti Cristo è la luce delle genti E questo Sacro Concilio adunato nello Spirito Santo Ardentemente desidera che la luce di Cristo riflessa sul volto della Chiesa Illumini tutti gli uomini annunciando il Vangelo a ogni creatura Ecco questa citazione del Concilio poi è commentata così dal Catechismo Con queste parole si apre la Costituzione dogmatica sulla Chiesa del Vaticano II Con ciò il Concilio indica che l'articolo di fede dogmatica sulla Chiesa dipende interamente dagli articoli concernenti Gesù Cristo Allora il punto di partenza è ciò che riguarda Gesù Cristo per parlare della Chiesa E questo ci dà però già una connotazione particolare Perché Gesù Cristo è non Dio, non lo Spirito Santo? Perché? Perché la Chiesa vive nella storia, si incarna, rende visibile la presenza e l'azione di Dio Allora, chi è che ha reso visibile l'azione di Dio e dello Spirito agli uomini? Ecco, Gesù Cristo che è detto il sacramento del Padre, colui cioè che rende presente il Padre Ricordate Filippo, chi vede me vede il Padre Anche l'immagine che l'Humen Gentium usa Cristo è luce delle genti e a sua volta la luce di Cristo è riflessa sul volto della Chiesa Allora, parlare della Chiesa vuol dire metterci in questa relazione con il Cristo, diciamo il Cristo storico Cioè con Gesù di Nazareth Ed è da Lui che è in Lui che ritroviamo tutte le caratteristiche di come dovrebbe essere la Chiesa Il Papa Francesco sta suscitando un qualche particolare interesse da parte di tutte le genti Cristo è luce delle genti, non soltanto di chi è parte, di chi è dentro alla Chiesa E proprio per questa sua, chiamiamola così, calda umanità E con questa sua caratteristica di attenzione a ciò che nel mondo Non soltanto nella Chiesa, che nel mondo rappresenta ciò che è stato oggetto dell'attenzione di Gesù Cristo I piccoli, i poveri, gli ultimi, i peccatori E non ha paura, no, di parlare anche, già il Concilio parlava della Chiesa Simul santa et peccatrix, insieme santa e peccatrice E anche Papa Francesco ha il coraggio di dire Sì, anch'io sono peccatore Dunque, il primo aspetto allora sarà un fare riferimento alla umanità di Cristo Come si è manifestata nella sua vita terrena La Chiesa gloriosa fa più riferimento continuamente alla divinità di Cristo Un certo modo di sottolineare la divinità di Cristo Porta come conseguenza, dice no, allora noi Chiesa siamo manifestazione di questa divinità di Cristo E allora si sottolineano le note di grandezza, di solennità, eccetera, eccetera E se invece sottolineiamo fortemente E questo è il mistero di Cristo che era insieme Dio e uomo Ma nella sua vita terrena ha manifestato Nell'umanità ha manifestato la sua divinità Nell'umanità ha manifestato la sua divinità La Chiesa dunque continua il Catechismo Non ha altra luce che quella di Cristo Anche qui il tema della luce solitamente viene connesso tante volte con la dottrina E in una sana cristologia La luce di Cristo ci viene dal suo modo con cui Egli è stato in mezzo, in relazione con gli uomini E in mezzo agli uomini ha vissuto la sua relazione con Dio La lettera agli ebrei Che parla di Cristo Lo vede, no? Su questa prospettiva Tirato fuori dagli uomini Scelto tra gli uomini Ex hominibus assumptus Et pro hominibus constitutus E costituito a vantaggio degli uomini Sia il suo venire dall'umanità E l'essere per l'umanità E questa è la luce Quando anche Giovanni Paolo II diceva che Più si conosce Cristo, più si conosce l'uomo E voleva sottolineare che è proprio la grande rivelazione di Dio è avvenuta Questo è il culmine della rivelazione nell'umanità di Cristo La Chiesa dunque non ha un'altra luce che quella di Cristo Secondo l'immagine cara ai padri della Chiesa Essa è simile alla luna La cui luce è tutta riflesso del sole Parlare della Chiesa allora vuol dire Sentirsi manifestazione, riflesso di quella luce di Cristo E il numero successivo ancora dice dunque L'articolo sulla Chiesa Poi l'altro aspetto Dipende anche interamente Da quello, dall'articolo sullo Spirito Santo Un altro legame Nella nostra teologia e tradizione occidentale Abbiamo meno sottolineato Si dice l'aspetto pneumatologico Cioè l'azione e la presenza dello Spirito Santo Dipende dunque da quello sullo Spirito Santo L'articolo che lo precede perché credo la Santa Chiesa Viene dopo l'articolo credo lo Spirito Santo Che è il Signore della vita eccetera eccetera Poi credo la Chiesa In quello infatti In quell'articolo lo Spirito Santo ci appare Come fonte totale di ogni santità Ed è l'altra grande Chiamoli io caratteristica della Chiesa Lo vedremo dopo brevemente Se da una parte Guardando Cristo Essendo suo riflesso La Chiesa Si rispecchia e si presenta Come la manifestazione della divinità Nell'umanità di Cristo E quindi con attenzione all'uomo Grazie al suo rapporto con lo Spirito La Chiesa manifesta E diventa segno Della santità Per capire cos'è la santità Una santità Che dobbiamo coglierla dall'azione dello Spirito Perché possiamo farci anche Una idea Di certo tipo della santità Di perfezione Moralistica O chissà che cosa No la santità proviene Perché abbiamo questo rapporto Con lo Spirito Che è il Signore E dà la vita E vive in questa relazione Con il Padre Con il Figlio Con il Padre Il Figlio è adorato E glorificato Allora In quello Infatti lo Spirito Santo Ci appare come la fonte totale Di ogni santità In questo Il Divino Spirito Ci appare come La sorgente Della santità Della Chiesa Dunque Secondo l'espressione dei Padri La Chiesa è il luogo Dove Fiorisce lo Spirito Allora Mi soffermo Un attimo Adesso Dopo queste due Precisazioni Che ci danno la base Per poter parlare Della Chiesa Nella Sacra Scrittura Troviamo Determinate Immagini Per parlare Della Chiesa E il Vaticano II Le ha riprese Proprio Nella sua Ecclesiologia La prima immagine Che troviamo Nella Chiesa È In ebraico Abbiamo Ka'al Yaw Cioè La Assemblea Ed è L'immagine Tipica Sarebbe quella Quando Israele Uscì Dall'Egitto Ai piedi Del Sinai Il popolo Si mette In ascolto Dice a Mosè Sali tu Mosè ha chiesto Il popolo Di fare Le abruzioni Nel senso Di Prendere Consapevolezza Ci sono Questi Riti Che chiamiamo Di purificazione Non sono Altro Che Il modo Di esprimere La consapevolezza Che noi Entriamo Quando Costituiamo La Chiesa Che noi Ci mettiamo In una Relazione Con Dio Che è il Santo E allora Come ci presentiamo Ecco Dei riti Esteriori Hanno solo Non sono quelli Che ci purificano Che ci santificano Il sangue No Di una giovenca Non può rendere Puri Eccetera Eccetera Purificare Quello di Cristo Sì Allora È l'esprimere La consapevolezza Che Ci mettiamo In ascolto E in relazione Con Dio Ecco Il popolo ebraico Alle falde Del monte Sinai Con Dio Che parla Tuoni Lampi Eccetera E Con Il mediatore C'è Mosè Che è in ascolto E che Prende La parola La Scende dal monte La porta giù Convoca il popolo La riferisce Il popolo Dice quanto il Signore Ha fatto Noi lo faremo E lo Metteremo In pratica Mosè sale Conclude L'alleanza Allora Ecco La Chiesa È la comunità Che si mette In ascolto Con Dio Per creare L'alleanza Per creare Un patto Di relazione Di fedeltà Con Lui Dio Per primo Si impegna Nella fedeltà E Il senso Ricordate Quella celebrazione Del capitolo 24 Dell'Esodo Dove Si prende Il sangue E viene versato Sull'altare L'altare È simbolo Di Dio E Quel sangue Diventa Gesù Lo utilizzerà Ecco Il sangue Della nuova Ed eterna Alleanza Nel contesto Culturale Voleva dire Che la stessa Il sangue Era simbolo Della vita Che la stessa Vita Grazie All'alleanza È In Dio E nell'uomo Gli antichi riti Per cui I nostri Incidevano Le vene Facevano Scambiare Il sangue Per dire Adesso abbiamo Fatto Un patto Dove le nostre Vite Sono unite Quell'alleanza Dice La vita Di Dio E la vita Del popolo È Un Unicum Dio Nel popolo Circo Sul popolo Dopo che Il popolo Ha detto Quanto il signore Ha fatto Noi lo faremo E lo esaudiremo Ecco l'immagine Tipica Dell'antico Testamento Di chiesa Popolo Di Dio Riunito E pensate Che è un popolo In cammino Non è un popolo Perfetto È in cammino Perché sta Uscendo Dall'Egitto Dalla schiavitù Che diventerà simbolo Del peccato Eccetera Sta andando Verso la terra Promessa Non c'è Ancora giunto Ma è in cammino E ha bisogno Di questo sostegno Di questo cammino Ed ecco Questo rapporto Con Dio Ecco l'assemblea Kaal In greco Era detto Ecclesia Che è la stessa traduzione Purtroppo poi Questo termine Noi lo abbiamo Trasferito Agli edifici materiali Ma ecco La chiesa Non è quello Che ci sta attorno Ma siamo noi Riuniti qua Attorno alla parola Allora Kaaliave Ecclesia Cioè Assemblea Dei convocati Nell'ascolto Della parola Di Dio Nel culto Designa In modo particolare Il popolo Che Dio Convoca E riunisce Dai confini Della terra Convoca Dei confini Della terra Poi diremmo Che parliamo Di chiesa Cattolica Dai confini Della terra Ho detto L'assemblea Di tutti quelli Che per la fede Nella sua parola E nel battesimo Sono figli di Dio Membri di Cristo E Tempio Dello Spirito Santo Una chiesa santa Cattolica Apostolica Diversi nomi poi Ognuno dei quali Sottolinea L'aspetto Del mistero Della comunione Di Dio Con gli uomini Ritroviamo Nati proprio Da queste immagini Di questa assemblea Ai piedi Del Sinai Perché lì nasce Il popolo Di Dio Ecco un termine Chiesa Popolo di Dio Che il concilio Ha recuperato Popolo di Dio Adunato Nell'unità Del padre Del figlio E dello spirito In questo rapporto Costituita da Dio Tra le nazioni Come comunità Visibile Che rende visibile Il suo punto Di riferimento Gesù Cristo In cammino Verso la patria Definitiva Come il popolo Di Israele Verso la terra Promessa In questo popolo Tutti hanno La stessa dignità Di figli di Dio La missione Comune E anche Il fine Comune E che Che è appunto Alla luce Della predicazione Di Gesù Cristo È il regno Di Dio E proprio Per questo Tutti Partecipano Ecco cosa vuol dire Entrare a far parte Della Chiesa A quell'edificio Santo Sacerdotale Di cui parla La lettera Agli ebrei La lettera Di San Pietro E proprio Per questa Missione Ognuno Condivide Di Cristo Il carisma E la missione Sacerdotale Profetica Regale Perché Queste tre caratteristiche Non sono per creare Separazioni Nella Chiesa Ma sono per Creare la comunione Perché tutti Attingiamo All'unico Spirito E all'unico Ministero Missione E santità Di Gesù Cristo Sacerdoti Profetti Anzi in ordine Profetti Carisma profetico Sacerdotale E regale Un termine Allora Altro termine Che sottolinea Questa grande Comunione E questa partecipazione È l'immagine Che troviamo Soprattutto In San Paolo Chiesa Corpo di Cristo E Tempio Dello Spirito Santo Per dire Che nello Spirito Santo Cristo unisce Intimamente A sé I fedeli Ecco la Chiesa Spirituale La Chiesa Era stato Un vent'anni fa Un venticinque Un dibattito Ma era stato Ancora Preconciliare Quando c'era stata Una forte Contrasto Tra La Chiesa Immersa nel mondo Con tutte le strutture E dall'altra parte Invece Sottolineare La dimensione Spirituale Si parlava Dell'Eglise Dell'Esprit Qualche volta Con qualche polemica Perché diceva Va bene Allora L'Eglise Dell'Esprit Vuol dire Che non si Incarna Nelle realtà No Si Incarna In queste Ma perché Attraverso Queste realtà Non crea Ostacoli Barriere Contrapposizioni Chiusure Ma crea Comunione Dunque E poi L'Eucaristia Diventa Il simbolo Simbolo Vuol dire Una realtà Che annuncia E insieme Contiene La Chiesa Perché Tutti quelli Che Attingono E vivono In questa Comunione Si sostengano E crescano Nell'unità E nella carità La grazia Specifica Del sacramento Dell'Eucaristia È La carità Intesa Come Legame San Paolo Nelle lettere Agli Efesini Direbbe Che tiene Compaginato Tutto l'insieme Dopo carità L'utilizziamo Principalmente Per dire Fare carità O fare qualcosa Ma è Quel legame Profondo Che tiene Compaginato Tutto l'insieme Che costituisce La Chiesa Fatta Delle diversità E dei doni Di tutti Formando Dunque Un solo Corpo Nella diversità Delle membra E delle funzioni E San Paolo Quando ci parla Di questi elementi Ci parla Proprio Della funzione Dello spirito Che è lui Ci sono diversità Di funzioni Di carismi E ministeri Ma uno solo È lo spirito Lo spirito È il fondamento Ciò che fa Comunione Comunione viva Un altro termine Che arriva Sia Come Comprensione Della predicazione Profetica Che poi San Paolo Chi scrive La lettera Agli Efesini Ricupera È sposa Di Cristo Nei profetti Osea E poi Amos È chiaro Dico Geremia Osea E Geremia Si parla Di Dio Come sposo E di Israele Come sposa E per questo Che nell'Antico Testamento Il peccato È presentato Principalmente Come prostituzione Cioè L'infedeltà Della sposa Popolo di Dio Che si concede Ad altri amanti Che non sono Il suo sposo A cui ha promesso Fedeltà Mentre lui Rimane Fedele Ecco San Paolo Prenderà Questa categoria E la Attribuirà Alla Chiesa Sposa Di Cristo Cioè Per sottolineare L'unione Della Chiesa Con Cristo L'alleanza Di Dio Con gli uomini Che diventa Definitiva E a cui Dio È fedele E la cui Risposta Della Chiesa È di rispondere Fedelmente Fedelmente A A questo Dono Il concilio Dunque Diciamo Vaticano Secondo Ha ripreso Un'antica Espressione Per indicare La Chiesa Come Comunione Si dice L'ecclesiologia Del Vaticano Secondo Principalmente Ecclesiologia Di comunione Con ciò Si afferma Che la Chiesa È L'estensione Agli uomini Della comunione Intima Della Santissima Trinità Sulla terra La Chiesa È già Comunione Con la Trinità Divina Pur Non avendo Raggiunto Il suo pieno Compimento Ed è segno E strumento Di questa comunione Con tutti Gli uomini Allora Questa è la Contemplazione Nell'essere Chiesa Naturalmente Allora Ne vengono Delle conseguenze Dire Credo La Santa Chiesa Credo La Santa Chiesa Sapete Che Tante volte Ci sono Queste Duplici Espressioni Credo La Santa Chiesa Qualche volta Usiamo Credo Nella Santa Chiesa È più corretto Dire Credo La Santa Chiesa Perché Non è un atto Dire Credo Nella Santa Chiesa Vuol dire Faccio un atto Di fiducia Nella Chiesa Come realtà Che si manifesta Eccetera Chiediamo La fiducia No Crediamo La Santa Chiesa Che è Questa grande Realità Che è Tra il già E non ancora Che vive Come Trasparenza O Manifestazione Della luce Di Cristo Di quel Cristo Come dicevamo Prima Che si è mostrato Storicamente Provate a pensare Ai Vangeli Solitamente Ci soffermiamo Più facilmente Nella parte finale Dei Vangeli Tutto concentrato Su passione Morte E risurrezione Ma quella è stata L'ultima settimana Della vita di Gesù E tutto il resto Allora tutto il resto Ci parla di Gesù Che cammina Tra gli uomini Che scegli Alcuni uomini Che affida La missione a loro Che si prende cura Dei poveri Dei poveri Degli ammalati Degli esclusi Dei peccatori Che va a mangiare In casa loro Che incoraggia Che corregge Da cui Riceve tante volte Anche Rifiuti Eccetera Eppure lui Rimane fedele Alla sua missione Pensate a tutte Le parabole Di Gesù Gesù usa Le parabole Perché vorrebbe Parlare Al suo popolo Di Dio Ma In maniera Da Da far capire Che cosa Da far capire Che Dalla sua azione Essi devono Pensare Immaginare Dio E non viceversa Perché Gesù Viene Giudicato E condannato Perché Secondo loro Ufficialmente Non si comporta Secondo quel Dio Che La Dottrina Tradizionale Ha già Descritto A lui Non fai così Se sei figlio di Dio Dovresti fare così Se fai quest'altro Fai così E invece Lui rimane Dio Proprio perché Non fa E rivela Un Dio Che non fa Esattamente Quello Che già Le definizioni Avevano detto Ed è sconvolgente Di solito Non ci pensiamo Tanto Sulla croce Ha salvato gli altri Neanche capaci Di salvare Se stesso Perché Perché il concetto Era che Dio Principalmente Salva se stesso E poi salva Anche gli altri Se è figlio di Dio Senda dalla croce Perché Dio È potente Dio Dio Non ha da soffrire Se Dio È suo padre Lo liberi Com'è possibile Che Dio Accetti La sofferenza Di questo Suo figlio Provate a pensare Come queste immagini Tante volte Mettono in crisi Anche la nostra fede Vediamo uno Che vive Un percorso Di malattia Di questo Ma Dio Dove sei Quando un papà Una mamma Si vedono Il figlio Dice Ma Se Dio È suo padre Fai niente Bene E invece I Marco Vistono morire In quel modo Impotente Senza imprecare E senza rivendicare Niente Quasi nel silenzio E guardate Che ci sono le parole Non quelle di Luca Dove Gesù Gesù dice Nelle tue mani Affido la mia vita Nelle tue mani Signore Affido il mio spirito Beh c'è un po' di segno No Marco Sottolinea solo Dio mio Dio mio Perché mi hai abbandonato E l'altro E mette in bocca Il centurione Vistolo morire In quel modo Disse Davvero Costui Era figlio Di Dio E qui È capovolta L'idea di Dio La Chiesa È chiamata A essere testimone Di questo Dio Che ci ha rivelato Gesù Cristo E non Di altro Dio Che ci costruiamo E Pasquale In quella notte Di fuoco Dove Ha segnato La sua conversione Dio 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 dei filosofi Dio Bene Allora È questa la Chiesa A cui noi Diamo Il nostro Siamo chiamate A dare Il nostro Assenso Affidarci Mi avvio La conclusione Per capire bene La Chiesa Anche noi Abbiamo capito bene Gesù Cristo Attraverso La sua missione Spirto del Signore Sopra di me Per questo Mi ha mandato Ad annunciare Il lieto annuncio Ai poveri Ad annunciare Eccetera eccetera E per capire La realtà Della Chiesa Paolo VI Diceva Quando la Chiesa Prende coscienza Di sé Diventa missionaria Cosa vuol dire? Sarebbe come dire Quando Gesù Prende coscienza Di sé Diventa il Cristo Cioè colui Che è inviato A salvare Altrimenti Rimane chiusa In sé stessa Allora La missione Della Chiesa Alla luce Di Cristo È annunciare A tutti i popoli Il regno di Dio Inaugurato Da Cristo Dopo la sua Rissurrezione Il Signore Gesù Inviò gli apostoli A predicare Il Vangelo A battezzare A insegnare A compiere Ciò che Egli aveva comandato Il Signore Gesù Ha dato Alla sua Chiesa La stessa Missione Che il Padre Aveva affidato A Gesù Come il Padre Ha mandato a me Così Anch'io Mando voi E vi aggiunge Per questo Ricevete Lo Spirito Santo È la missione Che si compie In quanto Noi Siamo strumenti Dell'azione Dello Spirito Santo E qui abbiamo La radice La capacità Di santificare Non è nostro compito Perfezionare E portare tutti A dire Dovete tutti fare così Camminare Con la testa dritta Dovete Filar via così Eccetera Non è questo Il nostro compito Non siamo andati A fare i moralizzatori Ma i santificatori Che è molto di più Che poi Da qui Scaturisse Il senso Della vita Nuova Quando Paolo Fa tutta la Contrapposizione Tra Spirito E legge Tra libertà E legge Perché è lo Spirito Il fondamento Della vita Nuova Questo Spirito Che va oltre La legge Oltre Non perché Non la pratica Ma La pratica A dismisura E Sin dai primi tempi Allora Della Chiesa Questa missione È stata Realizzata Ricorda gli atti Degli apostoli Da tutti i cristiani Ecco Questa consapevolezza Quando pensiamo Che i doni E i carismi Ministeri Possono Creare Divisione Il Papa I vescovi I parroci I sacrestani E giù tutti quanti Ognuno che ha un incarico Crea un recinto Qua ci sono io E Allora No Congiuntamente Come lo Spirito Che Tiene insieme Tutte le Giunture E ognuno di noi È Un ossicino Ma Se sta con la giuntura Cava un dito Lo butti via Allora Tutto sta insieme Così si vive La missione Non in Contrapposizione Ma In Sinergia Ecco perché Le divisioni San Paolo Le riporta Il peccato Contro lo Spirito Perché per definizione Lo Spirito È Spirito di unità Dunque Dicevo che Questa missione È stata realizzata Da tutti i cristiani Che spesso Per compierla Sono giunti Anche a sacrificare La propria vita Ecco la Testimonianza La chiesa Testimoniale Che veniva chiamata Martirium Ma il termine Martirium Era Testimoniare Quello che Gesù Ha Vissuto Poi Poi È stato dato In Come Eccellenza A chi Testimoniava A tal punto Da partecipare Anche Alla morte Fino alla morte Per testimoniare Il Vangelo Ma Quello è Il punto Per eccellenza Diciamo Ma il martirium È quotidiano Nel testimoniare Questa comunione Questo amore Questo stile Di Cristo Questa unità Dello spirito Il mandato dunque Missionario Del Signore Ecco Dov'è la sua fonte Scaturisse Dall'amore Eterno Di Dio Che ha inviato Il suo figlio E il suo spirito Ecco la chiesa Che nasce Nella Trinità E vive dentro Chiamiamolo così Il vortice Della vita Trinitaria Non si costituisse Chiesa Perché si fa Una società Per azioni Noi ci proponiamo Questo E costituiamo Una chiesa Una parte di essa Una istituzione Dentro alla chiesa Perché ci facciamo Un nostro programma Un nostro progetto La chiesa Scaturisse Il mandato Missionario Scaturisse Dall'amore Eterno Di Dio Che ha inviato Il suo figlio E lo spirito santo Perché vuole Che tutti gli uomini Siano salvati E arrivino Alla conoscenza Della verità Ecco dunque Che dato che la chiesa Ha ricevuto da Dio Sulla terra Come Cristo Ha ricevuto da Dio Sulla terra La sua missione Salvifica Si dice Ecco un termine Che anche il concilio usa Che la chiesa Che la chiesa È sacramento Universale Di salvezza Cioè strumento Visibile ed efficace Per portare Salvezza A tutti Questo vuol dire Sacramento Universale Di salvezza Non è La salvezza La salvezza È Dio Attraverso il suo figlio Incarnato Gesù Cristo Rende visibile Il suo progetto E lo rende reale Attraverso il dono Il dono Dello spirito Dunque È sacramento Di riconciliazione Della comunione Dell'umanità Con Dio E dell'unità Di tutto Lo ricorda anche il catechismo Di tutto Il genere umano Chiesa Non vuol dire Un recinto Per alcuni Ma è cattolica Perché è aperta A tutto il genere umano Si dice anche Che la chiesa È un mistero Perché Perché nella sua realtà Visibile Si fa presente E agisse Una realtà spirituale E divina L'azione dello spirito Che si può percepire Soltanto Mediante la fede Credo La chiesa Che c'è questa realtà Invisibile Che è reale E agisse Mi fermo per lasciarvi Anche un po' Di tempo Ci sono Le ricordate Le cosiddette Le chiamavano una volta Le note La chiesa una Santa cattolica E apostolica Ecco Sono alcuni caratteri Essenziali Della chiesa Che li troviamo già Nei simboli Cioè Nei credo Della fede antica Sin dalle epoche Più antiche Allora Brevissimamente Una perché Sua origine E modello È la Santissima Trinità È attorno A Cristo Fondatore Che ristabilisce L'unità E lo spirito Che è questo collante L'ho detto prima Che tiene unite Tutte quante Le membra Ecco Ecco La sua Unità Non perché Tutti Facciamo la stessa Cosa Perché tutti La facciamo Allo stesso Modo È la diversità Delle culture Dei tempi Dei modi Con cui la chiesa Sta nella storia E nel tempo Una Non è perché È sempre Idei Ma sempre Fatto esattamente Le stesse cose Ma perché Si rapporta A questo Centro Di unità L'unità Si manifesta Nel fatto Che i fedeli Professano Una stessa fede Celebrano I medesimi Sacramenti Sono tenuti Insieme Dall'unica Verità Di Cristo Che è Proclamata E conservata Nella Chiesa Hanno Una comune Speranza E la stessa Carità Un capitolo Importante Che è nato Dal dopo Concilio Le radici Erano precedenti Il movimento Ecumenico A proposito Di unità È un'attività Ecclesiale Il comunismo Con il quale Si cerca Di ristabilire L'unità Dei cristiani Nell'unica Chiesa Fondata Da Cristo Si realizza Con la preghiera La conversione Del cuore La reciproca Conoscenza Fraterna E col dialogo Teologico Non parliamo Poi Se all'interno Della stessa Comunità Cattolica Cristiana Locale Eccetera Si infiltrano Divisioni E qui Non siamo più La chiesa Di Gesù Cristo La chiesa È santa Perché Dio È il suo autore Cristo Ha dato Se stesso Per essa Al fine Di santificarla E rende La strumento Di santificazione Ecco la radice Perché Lo spirito Santo La vivifica Con la carità La santità Allora È la vocazione Di tutti i suoi membri È il fine Di ogni Sua Azione È santa Anche grazie Quando parliamo La comunione Dei santi È santa Anche grazie La santità Raggiunta Dai suoi membri Che sono già In Cristo In modo Eminente La Santissima Vergine Maria Santi E Vergine Maria Che sono Anche modelli E intercessori Sulla cattolicità Abbiamo detto Perché In essa È presente Cristo E perché La sua missione Abbraccia Ed è rivolta E aperta Alla totalità Del genere umano Anche qui Ogni chiesa particolare Ogni porzione Di popolo Di Dio Che è in comunione Nella fede Nei sacramenti Con il proprio Vescovo Con Ordinato Nella successione Apostolica Formata Immagini Della chiesa E in comunione Con tutta la chiesa Ecco Ogni chiesa Ogni comunità In questo modo È cattolica E alla fine Apostolica Perché Edificata Voluta da Cristo Sul fondamento Degli apostoli Testimoni Di quel lato fondante Che è La morte E risurrezione Di Cristo Perché custodisse Quella fede Trasmessa dagli apostoli E perché Grazie a quella Continuità Si mantiene In comunione Di fede E di vita Con la sua origine Tutti i membri Della chiesa Partecipano Secondo le diverse Funzioni Tutti i membri Della chiesa Partecipano Secondo le diverse Funzioni Della missione Ricevuta dagli apostoli Di portare Il Vangelo Al mondo intero Quindi La vocazione Cristiana Per sua natura È vocazione Apostolica All'apostolato A portare L'annuncio Di Cristo E Cristo Al mondo Volevo chiederle Una cosa Ha parlato Di cattolicità E di unità Tante volte Però Non siamo abituati Alla diversità E quindi Alle volte La cattolicità È sinonimo Di uniformità Ecco Come Come Essere capaci Di affrontare Invece Un futuro Nel quale Almeno Papa Francesco Ci sta testimoniando Questo Nel quale La chiesa Diventa La convivialità Delle differenze Cioè L'esperienza Delle differenze Messe in unità È come È come Diventare Cristiani Capaci Di vivere In una chiesa Così E meno Una chiesa Dove tutto È livellato E uniforme E credo Che Abbiamo Tutta Una storia Che ci ha Portati A Identificare La verità Con La modalità Con la quale Essa Si concretizza Nella storia Quando sono nate Le missioni Abbiamo Anziché Inculturato Il Vangelo Portato il Vangelo In quelle culture Abbiamo spazzato via Quelle culture E abbiamo Portato quella gente A vivere Come noi A fare i riti Eccetera Oggi si vede Già tutta una diversità Eccetera Allora Se al centro Mettiamo Come Ho detto prima Lo Spirito Santo Che ci porta Che ci porta Ad essere fedeli Al Vangelo Di Gesù Cristo San Paolo Usa l'immagine Del corpo Le membre Eccetera E poi Connesso con lo spirito San Paolo Dice dove c'è lo spirito C'è la libertà E La libertà Lì E' intesa Come La modalità Con la quale A uno Lo spirito Da questo A un altro Da quello Eccetera E tutto Nell'unica fede Ecco Però credo Che Allora Ormai Diciamo Che il discorso Culturale Della 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 Pluralità Anzi Oggi si parla Di interculturalità E di interreligiosità Culturalmente Diciamo E' accettato Anche se Nella prassi E' piuttosto Lento A entrare Ma Questa difficoltà La viviamo La viviamo Già Non soltanto A livello Della chiesa Nel mondo Ma la viviamo All'interno Delle nostre Singole comunità Pensate che Facciamo fatica A essere Chiesa Una Una E cattolica Anche nelle piccole Comunità parrocchiali O di qualsiasi Altro genere Ma soprattutto Legate A che cosa Non All'unità Della fede Ma Alla modalità Con cui si esprime Quella Stessa fede Ma no Perché così Questo fa così Ma no Io farei Cos'ha Ma io farei Cos'ha Eccetera Ecco Alla Cattolicità Si arriva Attraverso Il dialogo Quando Paolo VI Proprio Dopo l'Ecclesia Suam Dopo aver parlato Della chiesa Eccetera Eccetera Dialogo Come luogo Di scambio Di confronto Di accettazione Di questa Pluralità Nell'unità Questa oggi È L'unica via Per essere cattolici Altrimenti Avremmo Cioè essere Cattolici Nell'unità Altrimenti Non avremo Cattolicità Perché escludiamo E non avremo Unità Perché non troviamo La via Ecco Del vivere La stessa fede Nelle Modalità Diverse Ma pensate Che questo è fatica Già all'interno Anche Delle nostre Piccole comunità Eccellenza Lei ha fatto un riferimento Alla carità Come legame Che tiene Compaginato Le varie componenti Della chiesa Ai singoli credenti E Ha detto anche Che tante volte Noi come comunità cristiane Interpretiamo la carità Come un'azione Verso l'esterno Della chiesa No? E Invece anche Il nuovo testamento E Gesù stesso Ci dice che Vi riconosceranno Da come vi amerete Da quanto vi amerete Allora io volevo chiedere Se lei ha Nel suo servizio pastorale Individuato Delle linee Delle Degli accorgimenti Che possono Aiutarci a vivere La carità Tra di noi Tra noi Componenti della chiesa Tra noi credenti Grazie Chi vive In questa chiesa Sa che Praticamente In questi Ormai La conclusione Del quarto anno E Ho sottolineato Fortemente Il tema Della Corresponsabilità Il tema Della Appartenenza E il tema Della comunione Allora Perché fondamentalmente Per la nostra chiesa Di questo nostro tempo Alcuni sottolineano Altre dimensioni Cioè c'è bisogno Di rimarcare Maggiormente La nostra identità La nostra La nostra verità Non bisogna Cedere di fronte a nessuno Eccetera eccetera Ribadire bene il nostro Ecco Io credo che A partire già Dal nostro interno E poi questo Ci permetterà anche Un dialogo Per essere cattolici Nel senso di Aperti anche Agli altri E Nella misura In cui Riconosciamo La Uguale Dignità Non soltanto Nell'essere Ma anche Nella missione E nel nostro Agire Perché è facile Sì sì siamo tutti Figli di Dio Però Qui penso che si debba Fare così No si potrebbe No 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 Qua Faccio io Questo è il modo giusto Eccetera La corresponsabilità No No È legata La comunione Vuol dire esattamente Riconoscere Che anche L'altro Anche il suo modo Di vedere Di sentire Ha cittadinanza Come il mio E La La via Maestra È che Nelle due vie Troviamo La via Dell'unità Nella comunione E Anche le singole famiglie Possono essere La famiglia piccola Chiesa Guardate che fatica Fanno oggi Stare insieme Anche piccole famiglie E tutti pensano Che sono figli di Dio Che hanno tanti doni Questo però Non riescono A Trovare L'unità Nella comunione Riconoscendo Reciprocamente Le diversità Ecco La via pastorale Se vogliamo Costruire Comunità Che sono Chiesa Non solo Che sono parrocchie Che sono istituzioni Che sono organizzazioni Eccetera Eccetera Questa è la via La via Di Riconoscere Nell'altro La stessa dignità Della missione Del compito Del sentire Accettare Di illuminarsi Reciprocamente E poi Volenti O Nolenti Vuol dire Accettando Anche E qui si colloca La parte Sacrificale Dell'amore Sacrificale Vuol dire Che uno Rinuncia A se stesso Per non rompere La comunione Se uno Continua Sempre a sacrificare L'altro Beh Allora È un Persecutore Ma se Insieme Si opera Per trovare Sempre la via Della comunione E allora È possibile Costruire Comunità Che si possano Presentare Come chiesa Altrimenti Non diamo Immagine Di chiesa E ne siamo Scandalizzati O almeno Scocciati Quando anche Nella nostra Società civile Vediamo Che Un partito L'altro Staltro Sono solo Contrapposizione E non trovano Comunione Attorno A che cosa A quello Che chiamiamo Il bene Comune Per cui Uno Rinuncia Di qua L'altro Rinuncia Di là Eccetera La visione E purtroppo Lo accennavo Ai sacerdoti Credo Che In questa Nostra Cultura Dove Prevale L'individualismo Libertario Vuol dire Che mettiamo Al centro Ciascuno Noi stessi E non Gesù Cristo E lo Spirito Santo Che è il Legame Che tiene Libertario Ognuno Preoccupato Di difendere O di Proporre Il suo Unico Modo Di vedere Senza Disponibilità Al dialogo Senza Dialogo Confronto Che giunge Alla Comunione Delle Diversità Non c'è Chiesa Grazie Grazie Eccellenza Una domanda Su questi aspetti Estremamente provocanti Sulla diversità La comunione Il dialogo Eccetera Papa Benedetto Nella Messa Proeligendo Pontifice Di diversi anni fa Ebbe a cominciare L'apertura Del lavoro Dei cardinali Con quella famosa Dittatura Del relativismo Che è rimasta Poi famosa Ecco ci aiuti a capire Come La vede un vescovo Dinanzi a quelle frasi Che proprio a partire Dalla chiesa A cuor leggero A noi cristiani Diciamo Confondendo la chiesa Con una società Qualunque Allora Agostino Mi pare che fosse Agostino Se non erro Diceva Nelle cose dubbi E la libertà Nelle cose necessarie E l'unità E Benedetto dice Attenzione alla dittatura Del relativismo E tante volte Ne sentiamo Credo in Gesù Cristo Ma non nella chiesa Credo nella chiesa Ma non nel mio vescovo Credo nei parroci Ma non nel mio parroco Allora Sono cose lecite Perché appunto Nelle cose dubbi E la libertà Ecco però Come arrivare All'unità Come mettere insieme Quei due strati Allora Sant'Agostino Con la terza Diceva Indubbis Libertas Innecessaris Unitas Inomnibus Comunque Caritas E Allora Voglio dire Che è Esattamente Questo il punto Dove abbiamo Tutti Ed è quello Che ho messo Come base Per la chiesa Proprio per non cadere Nella dittatura Del relativismo Perché Ciascuno di noi Non è Non ha come Obiettivo Di presentare Se stesso Io sento così Io vedo A me sembra E Allora questo sarebbe Ma Ma ognuno Abbiamo come punto Di riferimento Il Cristo Il suo Insegnamento Allora È lì Che deve Andare La nostra Ricerca Ed è attorno A quello Dove si crea L'unità Che poi Si possa parlare Allora Di modalità Di modalità Diverse Di realizzare Il modo Con cui La chiesa Oggi Sta nel tempo Sul modello Di come Cristo È stato nel tempo Nella sua storia Nel suo tempo Allora qui Può essere Quel dubis Libertas Dove Uno Farà Un'ora Di adorazione L'altro Farà tutta la notte Ma Allora È Quella Modalità Ma Il necessario Is unitas La necessità Riguarda Esattamente Il punto Che costituisce La nostra Chiesa Che Riuscirà A viverlo In omnibus Caritas E io Collego Quel Caritas L'amore Di Dio È diffuso Nei nostri Cuori Per mezzo Dello Spirito Santo Che ci è Stato Donato È lì Nel nostro Rapporto Di docilità Allo Spirito E Paolo VI Ricordava Che il dialogo È esattamente La via Non attraverso La quale Uno convince L'altro A andare Alla sua parte Ma dove Insieme Tutti quanti Mettono Insieme I doni Dello Spirito Per cercare La verità Che Illuminata Dello Spirito Ma Vi ricordate San Giovanni Ricorda Lo Spirito Prenderà Del mio E ve lo Donerà Cioè lo Spirito Non è un'altra cosa Diversa Dallo Spirito Del Cristo Ma Egli ci ricondurrà Ci rimanderà A quello Che il Cristo Ci ha detto Ecco perché Il Vangelo Rimane Il punto Che assicura Non la dittatura Del relativismo Del relativismo Ma La via Attraverso La quale Nel dialogo Nel confronto Nelle libertà Allo scambio Di doni Si giunge All'unità Della fede La fede È l'oggetto Gesù Cristo Il suo insegnamento Ringraziamo il Vescovo